il più cordiale ben connessi e ben sintonizzati gentilissime amiche gentilissimi amici giunge tutti quanti voi da parte di roberto de angelis siamo di cucina consigli flash parliamo della cottura bagnomaria per evitare che durante questo tipo di cottura o con la cottura a vapore la pietanza e la pentola si possano bruciare perché l'acqua evaporata senza che ce ne rendessimo poi eventualmente conto mettete nell'acqua attenzione sentite bene mettete nell'acqua sul fondo del contenitore alcune biglie di vetro signore e signori non sono impazzito parlo proprio di vetro di alcune biglie di vetro perché durante la cottura quando il rumore delle biglie aumenterà vorrà dire che è il momento di aggiungere altra acqua semplice no chiaro chiarissimo un saluto da roberto de angelis e vi aspetto al prossimo giro ciao a tutti